Mi rimpiango molto il cinema degli anni d'oro perché con il cinema dell'epoca mi ha nutrito molto. Il regista Stefan Libersky è a Roma per presentare al Festival Rendezvous il suo ultimo film Tokyo Fiancé che sarà nelle sale italiane il 28 maggio distribuito da Phil Rouge Made. E parla del cinema italiano attuale, rimpiangendo i vecchi maestri con molti dei quali ha collaborato da assistente volontario. Il cinema di oggi, devo dire che va un po' meglio di qualche anno fa, però adesso con delle persone come naturalmente Moretti che c'è il film che uscirà presto, oppure Serafini, oppure della gente, sono qua e là qualche regista che contano di nuovo sulla scena del cinema internazionale. In Francia invece la situazione è diversa grazie al sostegno pubblico che il governo assicura all'industria culturale. Una decisione politica anche di sostenere la cultura in generale, non solo il cinema. Hanno quell'idea, i francesi sono più arroganti anche dunque, pensando di essere un faro nel cielo del mondo dunque. E questo è benedetta, eh sì, ogni tanto. Tokyo Fiancé, tratto dal romanzo autobiografico di Amelino Tomb, né di Eva né di Adamo. Perché ho letto il libro, mi è piaciuto molto. Di più avevo la voglia da lungo di fare un film in Giappone. Volevo un film, una storia semplice di amore appunto, un amore particolare che non è mai trattato, non così tanto trattato quel tipo di incontro. Il film è una commedia romantica. A me mi è naturale perché è una cosa che, non so, mi sembra una cortesia di raccontare le cose con ironia, non lo so, però leggerezza, pure come dicevo. Non sono io che l'ho inventata, però c'è una scrittrice francese che diceva che il mondo è già così pesante che quando uno aggiunge qualcosa al mondo, almeno che sia leggera. Grazie a tutti.